Una giornata particolare è quella di quest'anno di Santo Stefano all'insegna dello sport per le vie cittadine. Presidente, che cosa accadrà? Ma guardi, che cosa accadrà? Noi vogliamo far iniziare una tradizione che troviamo di fatto in tutte le maggiori città italiane, che il giorno di Santo Stefano, il 26, vogliamo fare una corsa all'interno delle strade della città, ovviamente per socializzare, per valorizzare questa città e ci auguriamo e spieghiamo che diventi un appuntamento fisso particolarmente importante nei prossimi anni. Tra l'altro è allo studio anche il pensiero di realizzare anche un minimo di beneficenza da devolvere a questa città. Quale sarà il percorso? Allora, è un allenamento individuale, non è una gara competitiva, quindi è aperta a tutti gli amatori. Il percorso si parte da Piazza San Francesco, si scende verso il corso Il Pionta, si torna al Parco Dulci, si ritorna verso le scale mobile, il Prato, si riscende a Villa Severi, il Parco, via Crispi e si ritorna in Piazza San Francesco. Ognuno farà il ritmo più idoneo alle sue possibilità e quindi sarà un momento per divertirsi tutti insieme.